Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché, per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione, su vieni che accendiamo la tv. Signore e signori buonasera, tra pochi stanti andremo a vedere. Torna a casa mamma, torna, vieni qua, siamo tanto soli, io e il mio papà. Vieni ora al cielo, parla con Gesù, anche i miei tanti, noi soltanto tu. Trasmettiamo ora a tribuna sindacale, un incontro stampa con il rappresentante. Il film è terminato, è mezzanotte, come si è fatta fredda sta cucina. Su vieni andiamo a letto tutti e due, dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gasti lascerò la colazione, mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lascio alla vicina, domani sera ci vediamo qua. Torna a casa mamma, torna, vieni qua, siamo tanto soli, io e il mio papà. Chiedi ora al cielo, parla con Gesù, angeli miei tanti, noi soltanto tu. Le nostre trasmissioni sono così terminate, che prenderanno domani e domani, che sono sempre corretto di carazzo, che passano mai bene. Torna a casa mamma, torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e il mio papà. Buonanotte tesoro. Buonanotte papà.